Rieccoci in diretta, mercati americani che proseguono con le loro contrattazioni dopo l'avvio di qualche minuto fa e la situazione vede il Dow Jones recuperare più 0,2% dopo un avvio molto cauto, in controtendenza il Nasdaq che perde lo 0,3%, standard più 500 si gode i suoi 4.000 punti e oltre, adesso a 4.077 più 0,09%. Commentiamo questa partenza di Wall Street e poi andiamo magari anche a vedere cosa succede in Europa, quali possono essere in qualche modo anche le reazioni del mercato. Con Matteo Talarico in collegamento con noi da Dubai, OGTrading.it. Ciao Matteo, ben trovato, grazie come sempre per la disponibilità. Ciao Giacomo, grazie a voi dell'invito, tutto bene? Tutto bene, grazie, spero anche voi, so che insomma Dubai si va fuori a pranzo, a cena, insomma la situazione è ben diversa rispetto a quella italiana, quindi un po' vi invidiamo effettivamente. Sì, un po' più tranquillo, bisogna sempre fare le precauzioni del caso, poi qua chiaramente hanno praticamente, diciamo, vaccinato almeno con la prima dose il 90% della popolazione residente, di conseguenza è chiaro che i contagi piano piano diminuiscono, c'è abbastanza apertura al turismo, soprattutto verso Pasqua abbiamo notato un bel boom di turisti, adesso ci sarà il Ramadan, quindi calerà anche il turismo e probabilmente caleranno i contagi, la situazione si tranquillizzera ancora di più. Comunque, sì, un po' di invidia ce lo dicono in molti che ce l'hanno da quel punto di vista. Eh, insomma, però voi, poi dico voi perché insomma Matteo ha un team con cui lavora oggi trading, vi siete vaccinati lì? No? No, non ancora, probabilmente potremmo già farci, allora potremmo già farci la vaccinazione, non so se settimana prossima, quella ancora dopo, andremo a farci la vaccinazione, comunque qua adesso chiunque vada si mette in fila per fare il vaccino e lo può fare tranquillamente. Perfetto, insomma, ulteriore invidia evidentemente, dato che qui più o meno siamo ancora ai livelli di stare sul balcone e gridare che ce la faremo, ma cambiamo argomento, se no ci deprimiamo troppo. Dicevamo, Wall Street che parte con il Dow Jones che guadagna lo 0,2, non aggiorna ai massimi del 5 aprile scorso, ma rimane in scia sostanzialmente. Standard & Poor's come detto si gode i 4.078-80 punti, Nasdaq è il più debole, ma non è una novità da questo punto di vista, anche se comunque arrivava da una serie di sedute molto molto interessanti, lontano dai massimi, ma comunque oggi è l'unica al momento negativa, meno 0,26%. Matteo? Sì, abbiamo delle aperture per adesso abbastanza deboli da parte del Nasdaq, però come hai ricordato tu siamo arrivati dalle fasi di breakout di alcuni livelli, dove comunque il Nasdaq ha rotto delle fasce importanti dei 13.300, adesso si trova in un'altra area importante, se mi permetti di condividere magari il grafico ti posso mostrare, condivido lo schermo. Intanto la regione mi ha beccato mentre mi stropicciamo gli occhi, non c'è problema, insomma, è anche questo il bello della diretta, ho fatto cose peggiori, mettiamola giù così. Ti salvi, ti salvi ancora tranquillo, non c'è nessun problema. Vedete tutti il grafico qua del Nasdaq? Qualche istante e dovremmo avercelo, intanto vediamo ancora il... Eccoci qua, adesso lo vediamo senza problemi. Ok, quello che vi dicevo appunto è che con il Nasdaq arriviamo da praticamente tre sedute abbastanza importanti a livello percentuale, vediamo che abbiamo fatto dall'inizio della fase realzista un più 6% circa, quindi parliamo di comunque 772 punti. È vero che il Nasdaq ci ha abituato anche sedute molto più importanti, però non dimentichiamoci che insomma in questo momento il Nasdaq ha meno euforia rispetto a quella che era magari l'euforia che avevamo su alcuni titoli anche del Nasdaq qualche mese fa. Tuttavia in questo momento finché il Nasdaq tiene dei livelli questi qua sotto, dei 12.770, io credo che possa rimanere in una struttura realzista. È chiaro che adesso c'è tutta quest'area qua, che ho cercato di evidenziare con una linea dei 13.600, siamo sull'indice cash e non sul future, è un'area abbastanza importante perché precedentemente quest'area è stata un'area in cui sono successe per alcune cose. Abbiamo praticamente l'inizio di una discesa che è stata una delle più importanti di tutti i mesi del Nasdaq, un giorno abbastanza, in molti si ricorderanno, ha fatto prendere parecchi spaventi, mi ricordo che in molti gridavano allo scopo della bolla, il 27 di gennaio, dove praticamente aveva finito il movimento realzista per iniziare una piccola leg ribassista che ha portato poi il Nasdaq a un ribasso di circa, anche qua parliamo di 700-800 punti. Quindi in questo livello diciamo che il mercato ha trovato dei venditori o dei venditori che hanno chiuso delle posizioni long, quindi che sono andati a prendersi dei profitti, o anche dei venditori che hanno iniziato a mettersi short sul Nasdaq. Poi è stato recuperato e infatti questo abbiamo visto corrispondere anche a questo doppio minimo dalla discesa del 25 di febbraio, dei 12.770, 12.008, essere un ottimo punto di ripartenza, noi con i nostri corsisti, con i nostri seguaci, diciamo, della nostra chat, abbiamo visto come ci si poteva mettere effettivamente a rialzo su questi livelli, se non avesse fatto il break al ribasso di questi livelli e ci ha un po' dato ragione. Però vediamo, tornando alla fascia le 13.600, come quest'area è tutta un'area in cui è successo qualcosa. Quindi qua abbiamo visto la chiusura delle posizioni long ed eventuali short, qui il mercato che ha provato diciamo a scendere e non era ancora stato venduto, quindi c'è stata un po' un'area di difesa in cui il mercato è stato di nuovo ricomprato e poi in questa candela del 22 di febbraio sostanzialmente è successo che il mercato da rialzista si è girato di medio breve periodo, ora in bassista, con questa candela importante che poi ha sancito una seduta di un paio di settimane, tre o tre settimane di ribassi. Quindi adesso tutta quest'area dove ci sono le piccole freccette, spero si vedano, è un'area in cui il mercato potrebbe adesso trovare sia delle prese di profitto, e così l'ha fatto vedere, e sia magari una vendita di posizioni short. Non sembrerebbe, perché comunque adesso il mercato sta tenendo abbastanza bene. È vero che per l'intraday, per girarci short, io direi che dobbiamo avere una chiusura almeno sopra i 13, per girarci long, scusami, dobbiamo avere una chiusura sopra appunto questi 13.600. Se così dovesse avere, dovesse fare oggi il Nasdaq, a mio avviso i massimi storici sono poi un passo, quindi secondo me la seduta di oggi è abbastanza importante e fondamentale per capire se poi il Nasdaq potrà rivedere i massimi storici e poi eventualmente romperli. Io rimango abbastanza positivo sull'indice, ci stanno le prese di profitto, però stiamo vedendo che comunque non sono così importanti, almeno in questo momento, però di medio periodo rimango ancora abbastanza rialzista. Stessa cosa magari se andiamo a vederci anche l'S&P 500 per rimanere sempre in ambito americano. L'S&P 500 che in questo momento sembrerebbe più tirato del Nasdaq, quindi potrebbe essere che va a fare una correzione e secondo me una correzione la deve fare, perché comunque dall'inizio del movimento rialzista, quindi l'ultima gamba ribassista che praticamente è iniziata il 18 marzo fino al 24 di marzo, da lì poi ha fatto una tirata unica al più 5% a 190 punti. Quindi magari un piccolo, non dico adesso, ma almeno prima di vedere i 4.200, un piccolo ritorno verso la media, quindi un reverting di prezzo almeno verso la 25 veloce, che è questa qua tratteggiata rossa, che potrebbe corrispondere a un livello di forward looking, quindi vedendo un po' il futuro di 4.000, secondo me potrebbe esserci, potremmo vedere lo stesso. Comunque la cosa importante a mio avviso è sempre seguire il mercato e non anticiparlo, quindi io in questo momento non dico che vado short, dico che mi aspetto nel caso dovesse girare il mercato, non mi spavento perché credo che sia una cosa normale, però ovviamente in questo momento si rimane long, non cerchiamo mai di fare, soprattutto a chi trada indici con i futures, con i cash, con i CFD, di non fare i veggenti e cercare lo short, il punto di inversione quando il mercato è prettamente realsista. Tra i titoli più performanti nello standard in pure 500, segnalo discovery, più 4,26%, Viacom, Viacom CBS, più 3,13%, poi abbiamo anche Tapestry, è andata via la schermata, adesso la recupero, adesso la recupero, standard in pure 500, eccolo qua. Allora, dicevamo, dicevamo, perché oggi è un po' ballerino la connessione, tra i migliori del standard in pure 500, Carnival Corporation, più 4,44%, Norwegian Cruise Lens, più 2,82%, Royal Caribbean Group, come vedete tutti i titoli legati insomma ai grandi trasporti e quindi la sensazione che oggi torna la fiducia in qualche modo sulla ripresa, perché questi erano titoli durante la pandemia molto 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 penalizzati, c'è anche discovery che non è più più performante, si è raggiornato per questo, ma guadagna comunque il 2,66%. Per cento sul Nasdaq, segnalo Biomarine Pharma, e quindi più 1,45%, LAM Research Corporation più 1,45%, Fox più 1,17%, perde il 5,16% net ease, perde anche Pinduo Duo e anche Zoom Video, titoli che invece durante la pandemia hanno sostanzialmente guadagnato terreno. Segnalo inoltre, e qui vi mostro il grafico, Biomit che guadagna oggi quasi il 2% sul Nasdaq, quindi insomma torniamo in qualche modo sui ragionamenti che abbiamo fatto anche con Matteo Talarico, l'azienda dei prodotti vegetali ha annunciato l'apertura di un nuovo impianto in Cina, il primo al di fuori degli Stati Uniti e che dovrebbe quindi aumentare la capacità di consegna nell'area. Poi segnalo anche un altro titolo che è l'I Auto, sempre all'interno del Nasdaq, che perde il 4,2%, anzi il 7,9% dopo che la casa produttrice di auto elettriche ha annunciato un'offerta senior note da 750 milioni di dollari da utilizzare in ricerca e sviluppo. Infine vi segnalo anche un titolo che è abbastanza attuale, si tratta di Moderna, sale dello 0,7%, anzi perde l'1,10%, anche nel Regno Unito si è iniziato a somministrare il suo vaccino contro il Covid-19 a partire da oggi. L'azienda ha dichiarato che il numero delle dosi dei vaccini verranno consegnate e rispetteranno i patti con l'Unione Europea, evidentemente al contrario di qualche altro titolo, c'è ancora una bassa quantitativa di volumi, tentativo di ribasso perché in apertura e nei future saliva dello 0,7%, questa è la situazione per quanto riguarda Moderna e qualche titolo interessante che arriva dagli Stati Uniti. Matteo, cambiando e volando, tornando nel vecchio continente, abbiamo Parigi, che guadagna lo 0,12% ed è l'unica ad essersi portata sopra lo 0, oltre a Londra che era già in territorio positivo, l'abbiamo anche spiegato il motivo, complice la sterlina debole e quindi volano molto i titoli legati ad aziende che fanno affari in dollari. Debole, DAX e Fuzzimib, solo che il DAX ieri ha aggiornato nuovamente i massimi in maniera piuttosto importante, il Fuzz è ancora lì a litigare con i 24.500 e i 24.700 punti. Matteo? Sì, io direi che in questo momento, parlando di DAX e di MIB, soprattutto siccome il DAX è l'indice di riferimento europeo, possiamo dire, è il più importante, il MIB è l'indice italiano non strano, direi che un pochino di flessione, che neanche chiamerei flessione, un po' di prese di profitto ci stanno. Ricordiamoci che il DAX ha fatto veramente una corsa importante, ha fatto un breakout dei massimi storici sopra i 14.150, in fare fossero, che non rompeva da un po' di tempo, su cui stava praticamente da un mesetto e mezzo, febbraio, marzo, stando su quei livelli, ha fatto un breakout che l'ha portato sopra i 150 punti quasi, dai vecchi massimi storici. È normale adesso un po' di prese di profitto? Io non trovo normale, invece molte persone che purtroppo vanno a continuare a shortare il DAX da livelli, ad esempio di 14.800 o 14.000, anche prima 14.600, perché comunque se io vado a vedermi ad esempio io utilizzo un broker che mi fa vedere i sentimenti del cliente, lo fanno vedere un pochino tutti i broker, però questo in particolarmente, non so se posso fare il nome, però è un broker abbastanza grosso e mi dava l'80% dei traders retail short sul DAX, praticamente me lo dava già dal 26 di marzo e quindi è chiaro che poi eventuali short squeeze possono succedere sull'indice che va a vedere i massimi storici. Tutti questi retail short non sono mai su un indice solo, soprattutto su un DAX, non sono mai un buon segno per gli shorter, perché comunque fa capire che c'è una continua ricerca forse nata di andare contro trend e poi queste cose succedono, abbiamo visto le chiusure delle scadenze tecniche del mese scorso e appunto c'è stata una forzatura di prezzo rialzo per praticamente cacciare fuori tutti questi shorter dal mercato. Adesso un pochino di prese di profitto, come ti dicevo, ci stanno, a mio avviso il DAX potrebbe anche tornare a rivedere i livelli dei 15.000 perché ci sta che faccia un processo anche lui di mini reverting, se vai a vedere che un grafico ha una crescita abbastanza esponenziale, sembra il Nasdaq in questo momento il DAX, stessa cosa il Mib, il Mib ha praticamente recuperato tutta la discesa della pandemia, quindi ci sta che adesso si vada a prendere un po' di profitto, però rimane in questo momento l'Europa abbastanza forte, il DAX rimane a mio avviso un indice molto forte, non mi andrei a mettere short sul DAX sinceramente, anche se come ti dicevo potrebbe fare un mini reverting e tornare a 15.000 o anche 14.900, cercherei sempre in questo momento di andare a prenderlo long. Tra l'altro per tornare un attimo sull'America, tu parlavi prima di Carnival, io ti dico che è molto interessante a mio avviso in questo momento, andare a vedere il settore dei trasporti in America. Io personalmente mi sono comprato un ETF che è un ETF, si chiama iShare Transportation, il ticker è IYT ed è un ETF molto molto interessante. Purtroppo non credo sia acquistabile da tutti in Europa perché non ha il KID, solamente da investitori professionali che rispettano determinati requisiti, tra cui un conto capitalizzato più di 500.000 euro, che vengono fatte un po' di operazioni durante il trimestre, infatti ci sono dei requisiti particolari, però questo ETF a mio avviso è molto interessante, anche per andare a diversificare tenendo presente che comunque siamo sempre su dei massimi storici nel mercato, quindi non è semplice in questo momento a chi si approccia al mercato dire dov'è che investo, non è semplice perché ovunque ti giri siamo quasi sui massimi. È chiaro che Città di Carnival, Carnival a mio avviso è un titolo su cui si potrebbe puntare perché potrebbe tornare effettivamente a dei livelli pre-Covid, ci potrebbe mettere un pochino di tempo, però ci potrebbe tornare da dimostrato, in questo momento Carnival è forte, ma ci sono tanti titoli di questo genere, a partire dal settore delle compagniere, oggi abbiamo visto Air France che a seguito degli aiuti da parte dello Stato di 5 miliardi ha registrato una buona performance, quindi questi titoli un pochino più value, che hanno un pochino più sofferto il calo durante il coronavirus, in questo momento se non si vuole comprare sul Nasdaq sui massimi potrebbe essere una buona alternativa per diversificarlo un pochino. Oggi tanti volumi su Air France KLM guadagna il 5,86%, ho mostrato prima anche Carnival Cruislands che ha segnalato Matteo, senti abbiamo ancora qualche minuto, c'è una domanda di un amico che ci scrive, siccome avete parlato di Moderna, vi chiedo un'analisi di Inovio, non so se la pronuncia è corretta, Pharmaceutical, provo a cercarlo proprio live per vedere di cosa si tratta, sì è un titolo nel Nasdaq, ovviamente legato al comparto farmaceutico, che è un po' un'arma a doppio taglio, insomma un po' come il doppio massimo su cui so che voi di oggi training avete una visione, non dico prudente, ma comunque abbastanza ampia, insomma di larie vedute, lo dico anche perché il doppio massimo c'era su Carnival Cruislands per quanto fosse relativo nel breve periodo, ma sto un po' divagando, tornando a noi, Inovio Pharmaceuticals, titolo del Nasdaq, oggi guadagna il 2,23%, diciamo che i supporti stanno lavorando piuttosto bene e quindi forse il nostro amico ci vorrebbe sapere se c'è spazio magari per una ripresa simile ai livelli del 2 febbraio scorso, in cui aveva registrato un più 33% il primo febbraio, poi un meno 11% il giorno successivo, movimenti molto simili a quelli che abbiamo osservato su GameStop se vogliamo, anche se magari è legato a altre dinamiche. Matteo? Allora sì, ti condivido anche lo schermo per vedere insieme questo grafico di Inovio. Allora io Inovio personalmente non la conosco troppo, però da quello che vedo è un farmaceutico sul quale agisce molta speculazione e probabilmente sente molto le notizie, sente molto gli short interest aperti, quindi sinceramente non saprei darti a livello fondamentale, a livello di notizie se c'è qualcosa di importante sul titolo, quello che ti posso dire è che non mi fa così impazzire sinceramente, perché vediamo che è un titolo che ha perso parecchi punti percentuali direi da giugno del 2020, adesso vorrei andarmelo a vedere magari con un grafico un po' settimanale, però diciamo che ha avuto questo spin a rialzo, questa bullrun a rialzo che è iniziata appunto con l'inizio della pandemia, quindi sicuramente questo titolo centrerà qualcosa con i vaccini, sono quasi sicuro, sono quasi certo, non lo conosco, però vedendo una seta del genere direi di sì, e ti posso dire che finché tiene questi livelli qua dei 9 dollari, che sembra essere un'area abbastanza di difesa in cui il mercato ha sempre tentato di comprare, c'è anche una media 200 che ci passa sopra, allora si può tentare un'operazione con degli stop a rottura di questi livelli, personalmente non mi fa impazzire la comprierei se volessi un po' tentare una scommessa, diciamo che sul settore farmaceutico c'è un po' di meglio, dalla stessa Johnson & Johnson, poi anche Pfizer nel malaccio, ce ne sono parecchie, più che altro se si vuole comprare un, il settore farmaceutico io andrei su un ETF, che comprende un pochino più di titoli healthcare, che va a mitigare il rischio tipico dell'healthcare, che è quello dell'uscita della notizia, che fa esplodere il titolo e poi lo fa sgonfiare, quindi il pump and dump classico di questi titoli qua. Dunque questa è l'analisi perfetta, insomma vedo che abbiamo anche azzeccato l'analisi perché vedo che insomma è arrivato il messaggio di soddisfazione da parte dell'amico che ci ha, che ci aveva chiesto appunto di, di novio. Per chiudere Matteo un po' abbiamo risposto in realtà alla domanda che sto per farti. Però sostanzialmente sì, poi peraltro confermo che in ovvio insomma è dentro il, il giro dei vaccini insomma segnalati assieme a Novavax, a Sinovac, magari quelli di cui si parla meno perché magari utilizzati in altri, in altri paesi, ma è dentro insomma, è considerato, vedo, tra i concorrenti diciamo così di Pfizer se vogliamo e sono su un titolo, su un sito americano. Dicevo un po', abbiamo risposto nel corso della nostra chiacchierata, però torno magari e ti faccio una domanda più diretta. In questo momento, lo ricordavi anche tu, con diversi indici vicino ai massimi, cito lo Standard e Pro500 e il DAX per dirne due. Un modo insomma interessante e in qualche modo utile insomma per salvaguardare il proprio portafogli. Diciamo, se c'è un consiglio principale, un'indicazione principale, quale può essere dal vostro punto di vista, dal punto di vista di oggi Trading.it? Allora, la prima sicuramente è compre e dimentica, no? Quindi su Stacca e tra dieci anni statisticamente il mercato dovrebbe essere più alto di dove adesso. Poi è chiaro che non possiamo saperlo, se necessitarà una fase ribassista, se cambia l'ordine mondiale. Insomma, non possiamo sapere se arriveranno gli alieni da Marte, quindi questo non possiamo saperlo. Però statisticamente il mercato, anche se si dovesse comprare adesso esempio 500, tra dieci anni dovremmo trovarlo a livelli più alti. Io consiglio sempre comunque di fare una diversificazione sulle varie asset classi, quindi non solo stare sull'azionario. Se si vuole stare sull'azionario è chiaro che bisogna diversificarlo bene, questo azionario, quindi non stare solamente sui titoli alla NIO, alla LIAuto che citavi prima, alla Tesla, diversificare bene. Per settore, per area geografica, quindi ad esempio io credo che adesso potrebbero andare bene nel prossimo, nel futuro, questo il prossimo anno, titoli asiatici sul settore finanziario, assicurativo, bancario e energetico. Anche l'India potrebbe far bene, nonostante adesso sono arrivate un po' di notizie negative da parte di Goldman Sachs, perché comunque, non dico declassato, però ha rivisto un po', ha rimasto le aspettative sull'India a causa dell'ingramento dei contagi, però l'India potrebbe essere veramente una raggio grafica di importante crescita di sviluppo, anche per il mercato azionario, quindi, e poi diversificare su varie set classi, quindi importanti sono gli alternatives, quindi magari concentrarsi anche un po' sul lusso, che non fa male, concentrarsi anche sulle cripto, perché no adesso penso che voi ne state parlando, ne stiate parlando anche abbastanza, quale fonti, ho sentito un po' gli interventi sulle cripto e secondo me è giusto che si vada a tentare, se si vuole provare, a mettere una parte di portafoglio su questo asset che sta diventando sempre molto importante, quindi io quello che credo che, e comunque una cosa molto importante, questa la voglio ribadire, la dico sempre anche a chi ci segue, tenere un po' di liquidità non fa male, diciamo che molti investitori americani usano il detto cash is trash, quindi il cash è spazzatura perché chiaramente non rende, in questo momento se tu compri l'obbligazionario hai un po' di rischi, quindi sinceramente per me in questo momento cash is king, non è cash is trash, però il cash potrebbe, quindi la liquidità potrebbe essere utile anche perché se dovessero esserci delle pressioni sui mercati o su determinati compartimenti di mercato azionario, si può andare a comprare bene. Nel frattempo ti segnalo che il Nasdaq sta tentando di fare il breakout dei 13.600, siamo molto vicini, quindi spero che i nostri seguaci, secondo le nostre tecniche e metodologie operative, abbiano preso il bel long che c'era adesso su Nasdaq, che sto vedendo adesso. Eh sì, sta cercando di portarsi quantomeno in territorio positivo, lo ha fatto in questo momento, c'era arrivato anche prima, 13.699, eccolo, sono arrivati 13.700 proprio in questo istante, mentre parlavi ho fatto anche, ho mostrato anche il grafico di Deliveroo che di cui si parla in questo, in questi giorni, proprio perché insomma da poco ha fatto il suo esordine alla borsa di Londra, ci torno, torno a mostrarvelo, dato che comunque sia Deliveroo, oggi vado un po' a rilento, eccoci qua, è da poco la borsa di Londra, quattro sedute, ha segnato il massimo a 3.90, adesso si è posizionato sui 285, ma come vedete insomma sono solo quattro candele perché siamo sul daily. Matteo Talarico, questo a dimostrazione di come anche possa essere pericoloso, ne parlavamo anche in un'altra occasione, andare a comprare le IPO, soprattutto in questo periodo in cui il mercato è incerto, no? Vero, vero, ne avevamo parlato in passato, assolutamente. Matteo Talarico, oggi Trading.it, grazie per essere stato qui con noi, il tempo a nostra disposizione si è concluso, buon lavoro ovviamente, buona Dubai e a presto. Grazie, un saluto a voi e forza Nasdaq che va a farci il breakout dei 600. Ciao a tutti. Grazie Matteo, ci fermiamo, piccolo break pubblicitario, tra poco. Grazie a tutti.